La biblioteca non l'abbiamo mica vista, adesso l'incontro è stato molto utile perché serviva a fare il punto della situazione e soprattutto, come dicevo nella prima risposta, vedere quali sono le tappe per, in tempi ragionevoli, cercare di riportare, pur in mezzo a tantissime difficoltà, la biblioteca su Artico Splendore. Questo è il punto di cui ci interessa, il programma di ricostruzione della biblioteca. E le risorse per un caso come queste, se non ci sono, vanno trovate. Ne avrete già parlato con il Premier, avete immaginato di ricavarne? Ma questo, tutto quel che va fatto per sanare una situazione intollerabile, va fatto, non c'è alcun dubbio questo. Dal punto di vista del resto del complesso, immaginate dei tempi per poterlo aprire, ormai è in mano a voi, Ministro. No, innanzitutto occorrerà, finché c'è sequestro, comprensibilmente e giustamente non si possono iniziare i lavori. Nel momento in cui ci sarà di sequestro si può cominciare secondo quelle tappe che già a suo tempo vennero fissate dal Ministero per il programma di rivitalizzazione. Ma lei se la sente di prendere un impegno in questa sede per questo complesso monumentale? L'impegno personale? L'impegno per che cosa? Se non mi dici impegno a? Per rendere un momento fruibile questo complesso futuro dopo i lavori? Per rendere fruibile la biblioteca, certamente, il complesso non è del Ministero. Il complesso interno della biblioteca è una parte? Certo, il complesso è dell'ordine di San Filippo Neri, quindi questo qui si farà tutto quello che c'è da fare, nel rispetto ovviamente di tutte le competenze, di tutte le proprietà e di tutte le responsabilità. Quindi il mio impegno a riattivare in tempi ragionevoli la biblioteca e renderla fruibile al pubblico degli studiosi, certamente c'è. Scusate. Scusate. Sì? Infatti il pezzo non è... Siamo individuando, alcuni sono restaurati, altri no. Anzi, quelli non restaurati voglio mettere qui. Fai questo, voglio mettere in firmezza e in pianto qua. Fai in pianto quello di lì. Grazie. Abbiamo un meccanismo che sceglie, non so. E scoprono i busti che mi chiami. Io non so fare niente. Mi metto in funzione per fare questo aspetto molto spettacolare. Faccio stare. Ho saputo quanto? No, dietro. Eh, eh. Allora andiamo dalla sagrestia. Ah, andiamo là qua. Grazie. Grazie.